Signore Messina, possiamo parlare per la sua compagnia, l'investimenti, i problemi che ha affrontato durante la crisi. Signore Messina, racconta per la sua compagnia, i problemi che ha affrontato durante la crisi. Grazie. Buongiorno. L'ultimo anno è stato molto importante per la nostra compagnia, perché abbiamo deciso dopo il miglior periodo della nostra storia, in termos di produttività, margini, profitabilità e risultati, per rinnovare il flitto. Abbiamo deciso alla fine del 2009, quando la crisi era a full impatto. Abbiamo fatto un plan di 5 anni di investimento in un nuovo bambino. Abbiamo già finito, perché abbiamo ricevuto 7 dei 8 nuovi big Roro container, tutti in Corea, 4 in DaiWu e 4 in STX. Abbiamo ricevuto il miglior periodo della ultima settimana, e questa è stata una decisione fondamentale, perché del miglior impatto nel risultato, e in termos di soldi nelle linee di vendita. che possono dare. La tua compagnia è iniziata in un business Roro container, in quale area? Siamo una linea tipica di vendita, involvata in una linea regolare. La nostra storia e la nostra compagnia di vendita sono tipicamente rappresentano la nostra presenza commerciale in tutto il miglior area, principalmente in Nordafrica. Abbiamo scoperto da Egipto a Algeria, e sono un area in cui abbiamo un po' affrontato nel ultimo anno, perché della crisi in Tunesia in 2011, poi l'Egypte, Libia. Libia è un grande problema, e per i migliori problemi, perché i nostri vettori sono affrontati molto often, sono la costa di Libia, e spesso ci sono chiamati a supportare i migliori, a prendere i porti, a prendere i porti italiani, in Sicilia, e per un punto commerciale. poi siamo presenti nel Red Sea, l'East-South-Africa, dove abbiamo trasportato il grande nuovo ruolo, e l'altra linea è verso il Red Sea, e l'Arabia e l'India. L'altra linea è l'altra parte dell'Africa, l'Ostafrica, con un ruolo di servizio con un ruolo di servizio, 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 in Italia, in Genova, in Italia, in Salerno, e poi in Francia e Spagna. il vostro ruolo di servizio con un ruolo di servizio, con un ruolo di servizio, che è un numero di servizio, in un ruolo di servizio, in un ruolo di servizio, in un ruolo di servizio, ma il buon ruolo di servizio, che ci sono dato, in un ruolo di servizio, per il cliente, e, conseguentemente, in termini di profitudine. Il margine di EBITDA è abbastanza grande, di riporte l'obiettivo che i pensioni hanno dato a nostre gruppo. Abbiamo fatto investimentali anche con le organizazioni terminal, ma anche in contenere, new and second-hand container equipment future investments on short-term on short-term we don't have further investments we have to consolidate the profitability and the good margin from these five years of great investment and capex but in our business you cannot stay stopped I think that we are we are already working on the near and next next future even if I don't have nothing of particular to to say about new immediate investment and the last one if have you if you have plans to extend your business in other countries Greece what about now we have extended our business in many countries we have relations we have more than 50 countries and in more than 10 we opened our controlled company at 100% or with a majority with local partners I would say for example in South Africa in Ivory Coast in Senegal in the most important European countries and we are looking at other country in which to be more able to go into the commercial and to the deep penetration of the importers and exporters is Greece in your plans not on short term not on short term we are looking at of course but not on short thank you very much thank you to you